La corsa è fondamentale nel riscaldamento. Quando si fanno delle andature o delle esercitazioni muscolari, l'importante è che ci sia l'addestramento e il coinvolgimento dei distretti articolari, so, attraverso delle circondizioni, degli slanci per il cingolo scapolare, la cocso funerale, tutta la parte del racchide, tutta la mobilità nella parte bassa del bacino, visto che le andature prevedono anche il coinvolgimento della parte bassa della colonna, le caviglie, gli angoli al ginocchio e la mobilizzazione di quei distretti che poi si vengono ad utilizzare. Perché se io corro e non oscillo le braccia, appoggio solo il piede, vado piano, sale la temperatura, sale il battito cardiaco, mi riscaldo, ma non attivo quelle articolazioni che poi in movimenti energici vado ad utilizzare. Allora il riscaldamento deve avere delle modalità diverse quando faccio un tipo di attività piuttosto che un altro. Faccio dieci volte in mille, faccio la corsa, faccio le salite, faccio la corsa e gli esercizi di attivazione, poi vediamo quali, visto che le ho elencate stamattina. Faccio le andature tecniche, gli esercizi di rafforzamento, faccio un altro tipo di riscaldamento. Che tipo di riscaldamento? Un giro di corsa come fanno i velocisti, due sono troppi e tu lo sai bene che due giri erano troppi. E poi iniziamo con le circonduzioni simultanee alternate, le spinte su piani diversi, anche a livello coordinativo, che poi questo sistema coordinativo aiuta la coordinazione quando faccio gli esercizi coordinativi sotto. Le spinte, gli slanci, le torsioni, le contropiegate, le piegate, gli affondi, le andature di mobilizzazione è molto più soft rispetto alle andature tradizionali. Per partire già con tutte, articolazione delle caviglie e specialmente articolazione della parte bassa della schiena, attivate. Cosa facciamo? La partenza, mai partire così nel riscaldamento. Se mi trovo fuori dallo spogliatoio e parto per la corsa, nei primi cento metri posso incorrere in non so quanti importuni. È la parte iniziale del riscaldamento che determina poi il caos muscolare. Se parto devo partire cercando di avere tempi d'appoggio più lunghi, con una rullata con il piede, e man mano che vado avanti vado verso la parte anteriore del piede. Ma se parto da freddo, senza aver lavorato sulla caviglia, a ritmi blandi, solo con una corsa di tipo elastico, arrivo lì e ho il soleo già incriccato. Sento nella parte iniziale quella finta e poi devo stare fermo 5-6 giorni, se mi va bene. Allora si parte molto radenti e man mano che si va avanti la corsa diventa sempre più marcata e sempre più elastica. Forza? Si corre con le braccia. Si corre con le braccia e non... No, prima è, partono sempre di passo e loro partono a rà. E' vero, si fa. E' vero, hai detto che c'era fretta che dovevo iniziare. Anche emozione. Salta bene chi corre bene, chi corre bene, chi corre bene chi cammina bene, cammina bene chi sa stare in piedi. E allora voi mi direte, ma che cavolo stai dicendo? Stare in piedi. Voi guardate la postura e guardate chi riesce a stare in piedi in modo bilanciato. Chi riesce a stare in piedi con il varicentro perfetto, senza andare in iperlordosi, avendole anche in simmetria con le spalle. Dopo è logico che con le spinte della crescita mature, da addominali passano all'ardominali e quest'azione inevitabilmente viene ad assumere la persona. Ma negli atleti, e stamattina non l'ho detto, la cosa fondamentale è la postura e l'educazione alimentare. Parliamo di soglia, parliamo di 4 mili molli, di 5 mili molli, di 10 mili molli. Guardate che un chilo per un'alimentazione scorretta, un chilo in più, ma alle volte anche un chilo in meno, determina dei danni enormi. La perdita di peso eccessiva o l'acquisto di peso, determina a livello prestativo dei problemi. Quando si perde troppo peso, c'è il marchio e non si guarisce più. Quando si sta bene e non viene instaurato un rapporto corretto di tipo alimentare, molto spesso noi abbiamo poi dei problemi, anche con allenamenti molto intensi. Faccio l'esempio, un chilo, perché mi alimento male, cosa può determinare a livello di soldi? Tantissimo. Se uno è tirato e mette su un chilo e è perfetto, quel chilo può determinare un sacco di riduzioni prestative. L'importante è che il mantenimento del peso e l'alimentazione passi attraverso l'educazione e non il fai-da-te. È antipatico fare nomi, ma ricordatevi che abbiamo avuto tantissimi atleti che hanno vinto medaglie, che hanno smesso a vent'anni perché hanno intrapreso la strada del fai-da-te. Cioè i disturbi e la scorrettezza alimentare determinano molto spesso i problemi a livello prestativo. Cioè attenzione, il tecnico, questo lo dico, il tecnico non deve fare il nutrizionista, il tecnico non deve fare commenti specialmente con le ragazze. Le ragazze bisogna che vengano seguite non dall'allenatore ma dalle persone competenti e noi allenatori non dobbiamo interferire con le conoscenze e le abilità delle persone che sono addette a questo tipo di... però è molto molto importante che questo problema venga affrontato. Io vedo girando che i ragazzi si alimentano male, non è che l'alimentazione è correttissima. E questo, l'alimentazione scorretta, alle volte determina un abbassamento del ferro, specialmente nelle ragazze, che poi bisogna fare l'implementazione. L'implementazione chimica determina dei danni a livello ossidativo, a livello di fibre, l'invecchiamento delle fibre, è tutta una catena. Cioè bisogna partire educazione all'allenamento ma anche educazione alimentare. Senza fasciarsi però, ricordatevi, delegando le persone competenti a risolvere questo tipo di situazioni. Ragazzi partiamo, forza riscaldamento, corsa leggera, con circonduzione delle braccia, prendi una corsia, tu vai in questa direzione, andando indietro, fai per alto, dietro, avanti, ok? Vai? Uno dietro l'altro, vai fino a metà rettilineo, porta, vai? Via, 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 cingolo scafolo omerale. Mi direte, ma che cavolo di esercizi sono? Sono esercizi di riscaldamento. Adesso ritorna indietro, via, dalla parte opposta. Adesso provo a fare lo stesso esercizio con circonduzioni alternate delle braccia, vai. Se glielo facciamo fare 20 volte a 100 metri, avanti e indietro, facendo questo, quanti metri fanno di riscaldamento? Ne faccio 50 di questi esercizi, li faccio fare 4 chilometri. E poi faccio il lavoro. Però intanto faccio qualcosa. Vai, spinte in alto, spinte avanti, spinte in fuori. Poi queste spinte diventano, guarda, una avanti e una in fuori. Una avanti, una in alto, una in alto, una in fuori. Una in alto, una avanti. L'importante è che sia su piani diversi. Non su questo, ma così, 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 ok? Mai parallele, sempre su piani diversi. Adesso vai avanti e lo fai in modo simultaneo, vai. In alto, avanti, fuori. In alto, in avanti, fuori. Vedete, si passa attraverso la coordinazione. Vedete come usciamo, usciamo dallo stereotipo di quello che si fa e mettiamo in crisi un sistema. sempre su piani diversi, via, via. Dai, continuare a cambiare, non sempre quelli, dai, dai, via. Almeno pensate a quello che state facendo. Bene, sempre nel riscaldamento divaricate in andatura, avanti. divaricate e riunite facendo questo e facciamo partiamo dal semplice e andiamo al complesso tu fai dei saltelli divaricate frontale con braccia fuori vai brava adesso quando ti schietto continui con i piedi così e fai questo per alto avanti non per fuori per avanti per fuori per avanti divaricate e riunite sul piano frontale e le braccia le portiamo sul piano sagittale e vediamo quanti lo fanno dai brava dai continuare proviamo a fare una divaricata sagittale tu vai in avanti fai questo sul metà tarso sul metà tarso non sull'avampiede e alla parte iniziale con le braccia fai questo al comando fai questo questo e questo vai parte successiva parte successiva un passo saltellato il passo saltellato deve portare questo punto verso l'alto e il sollevamento dell'arto non deve permettere all'arto di spinta di cedere voi dovete proiettare la testa più in alto che potete e con le mani in forma coordinata andate a portare in battuta sotto il popliteo così vai si fai il passo saltellato questo brava dai su su in alto su su brava dai ti fermi sul posto vieni qui oscilla con le braccia e tenendo le ginocchia vicine porta i talloni per fuori oscilla con le braccia fai un'azione di questo tipo vai via ruota ruota fuori vai brazza ferme spalle ferme le mani verso il naso hai un bicchiere non devi far pieno d'acqua non devi farlo cadere op 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 su le mani fuori adesso all'interno oscilla con le braccia e porta i talloni all'interno via no così per avanti via brava dai su su di più su abduttori adduttori su 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 basta provate anche voi qui e non lo fa cadere non fa questo lo tiene qui la regola dei triangoli simili guardate mettiti qua questo triangolo qui l'area di questo triangolo è uguale all'area di questo triangolo l'oscillazione non avviene solo anteriormente ma in modo sincrono anche posteriormente vedete quest'area qua e quest'area qua devono essere simili non una un metro quadrato e l'altra un centimetro quadrato perché poi i problemi si vanno a ripercuotere nella parte sotto ok adesso sul posto fai 10 secondi di oscillazione rapida delle braccia quello che hai appena sentito la regola dei triangoli simili la provi a eseguire sul posto in oscillazione 10 secondi chi prende il tempo è un'eternità 10 secondi un'eternità pronti? vai dai 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 l'allenatore si mette dietro e il gomito deve sbattere nella mano vai vai poi si mette avanti e deve portare qui all'occhio bene basta così via provate dai brava spalle ferme spalle ferme stamattina si diceva che le ragazze rispetto ai ragazzi hanno delle muscolature più rafforzate o meno rafforzate qual è la muscolatura meno rafforzata? se lei solleva un piede se lei solleva un piede viene a martello porti fuori così brava dentro qua scusa appoggia tutte cinque la parte metatarsale tutte cinque le dita in questa parte qui senza pigiare sulla parte anteriore brava e servono gli stabilizzatori propriocettivi per fare propriocezione guardate la caviglia quelli sono i propriocettori guardate vi mettete qua peronieri tibiali guardate i peronieri se lavorano bene adesso da qui fuori chiudi gli occhi concentrati e guardate il piede ma non dovete farlo per tre secondi rimanete lì venti secondi vai occhi chiusi dai dai provate ragazzi vedete dai pronti via piede a martello concentratevi molto spesso quel piede lì deve essere allenato nella seconda parte perché nella prima parte quasi tutti i tecnici danno più tempo e più controllo controllo sicché se questo è l'arto che ha bisogno e proviamo quando partiamo dobbiamo sapere che partiamo con l'arto sinistro e non con il destro sta in piede col sinistro sei meno stabile vero chiudi gli occhi chiudili chiudili dai dai anche voi guardate dai ferma ferma brava bene seconda fase quando avete memorizzato il tutto passiamo al secondo step lo step delle dominanze noi sappiamo che abbiamo sul piede dei recettori dobbiamo stimolarli questi recettori sono quelli che ci danno i problemi ma ci danno anche i benefici allora andiamo in dominanza diciamo appoggiamo il piede sul primo metatarsio appoggiamo il piede sul quinto metatarsio appoggiamo il piede in modo anteriorizzato appoggiamo il piede in modo posteriorizzato vuol dire che faccio questo senza sollevare la suola porto il peso di là senza fare questo porto il peso di qua senza fare questo porto il peso avanti senza fare questo porto il peso dietro senza fare questo il piede rimane giù però il peso lo sposto di qua e di là questo è un esercizio di addestramento all'appoggio del piede che deve essere sempre potente al lato della della spinta dell'impulsione vai devo stare su sì stai su con gli occhi aperti anche voi forza dominanza avanti senza sollevare il tallone dominanza esterna dominanza interna il piede d'appoggio dominanza posteriore dominanza anteriore bene adesso chiudi gli occhi e rifai e rifate la stessa identica progressione via anteriorizzato esterno esterno interno vedete quanta difficoltà e secondo voi non si fa addestramento a fare questo ma lo facciamo nel riscaldamento siamo ancora nel riscaldamento ragazzi poi abbiamo le funicelle poi abbiamo gli over poi abbiamo i cerchi per la rapidità ci impieghiamo un'ora a fare tutto prima di iniziare l'allenamento bene adesso portati in questa posizione sui talloni vai solleva le punte e vediamo se hai i tibiali forti vai apri un po' i piedi su bene le punte dei piedi su 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 come stanno questi tibiali forza su 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 dai su su adesso avanza avanza tienili su e avanza all'op ti fermi e mantieni quella posizione via hop ferma tienili su via avanti hop dai ma non per 2 metri per 50 metri altrimenti cosa andiamo ad addestrare hop bene adesso facciamo la barchetta voi siete in categoria ragazzi e tu esordiente facciamo la barchetta andiamo sulla parte anteriore e poi sulla parte posteriore parte anteriore parte posteriore dai voi due forza bravo su su vai su oh vai su su oh su oh da solo vai via provate tutti più le punte vengono sollevate più il tibiale lavora i tibiali bene adesso sei capace di portare un piede in questa posizione l'altro in giù fare questa azione qui vai si tallone in alto vai hop brava dai dai brava dai brava dai voi li fate questi eh bene siccome lavoriamo anche sulle caviglie posizionate le mani alle ginocchia e lavoriamo nella mobilizzazione della caviglia spingete avanti senza sollevare i talloni giù giù più che potete giù quando siete giù iniziate adesso a circondurre via circondurre spingere bene avanti spingere bene avanti non non solo da una parte ma anche dall'altra rimanete giù mobilizzazione dell'articolazione della caviglia via dai che va bene via continuare dai bene adesso saliamo siamo arrivati qui adesso arriviamo qui porta le braccia in alto mobilizzazione della parte bassa della schiena attraverso una circonduzione piccola circonduzione quest'azione qui via busto fermo fermo il busto solo il bacino vai via ferme le braccia via via dai forza e adesso circonduzione attraverso l'azione delle braccia questa azione qua questo è tutto riscaldamento ragazzi è il vecchio preatletismo via da una parte anche dall'altra e adesso questa è una circonduzione di cosa del bacino adesso facciamo una circonduzione del busto portiamo a passeggio le braccia attraverso un'azione che passa per dietro da questa parte e da quest'altra via via ma siccome sono normali e non sono sofisticate e non stanno al passo con la moda non si fanno braccia in alto su così metti le mani così guarda tieni dentro l'addome via dai dai via via dai primo esercizio adesso per sotto guardate vai dietro gira le mani su in alto porta il busto eretto stai bene in piedi qui via uno dai terza fase giù col busto puoi piegare anche piegale un po' così siete sicuri che la schiena non lavora pronti vai spingi ok e abbiamo fatto tutta la parte sopra non parliamo di fluidità nelle braccia nella corsa cosa dobbiamo se da bambini mangiate un ago quando diventate grandi quell'ago diventa un pallo di ferro dobbiamo da subito quando lo mangiate l'ago dobbiamo metabolizzarlo e spellerlo dal corpo attraverso cosa? esercizi di mobilità altrimenti quel lago diventa un pallo di ferro e il pallo di ferro determina rigidità scarsa mobilizzazione e dai test di flessibilità scarsa efficacia muscolare gli angoli simili lei si trova in questa posizione adesso devi avanzare perdendo non perdendo coordinazione passando attraverso un saltello nella posizione opposta e simmetrica vai un saltello vai hop ferma e il braccio dietro vai hop hop dai hop avanza vai stai alta hop 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 brava hop brava abbiamo trovato un otocentito è quello andiamo andiamo forza hop dai tutti i ragazzi via alti bravi no guarda sali qua e fai questo questo è il braccio opposto vai hop vai vai hop hop esercizio per i piedi prima di passare alla rullata passiamo all'estensione se faccio quest'azione qui e quest'azione qui la spinta vado ad ultimarla non ho convenzioni con i fabbricanti di scarpe però la punta del piede leggermente deve strisciare faccio un'azione di questo tipo e tengo dietro più che posso vai senza strisciare senza strisciare tieni giralo il piede no tienilo dietro si tiene dietro e nella parte finale si gira si tiene dietro e si gira via questo guarda stai più alto bene bene gira anche il destro vedete quando fate un esercizio analitico e vedete che il piede stenta a ultimare la spinta e si porta via nella corsa quasi sempre quel paramorfismo meccanico si si evidenzia ricordate che i paramorfismi meccanici diventano dismorfismi e i dismorfismi non guariscono più secondo esercizio tallone pianta punta la rullata ampia ampia brava ancora di più stretta più stretta e rapida rulla rulla vedete vedete tallone pianta punta tallone pianta punta più stretto e più rapido sei capace da rullare determinando anche la massima decontrazione tu fai un avanzamento un avanzamento rapido dei piedi e con un'azione molto decontratta delle braccia vai brava dai brava brava più decontrazione più decontratta vai 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 tallone pianta punta tallone basta via chiude 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 contratti sulle spalle chiude contratti via 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 seguo io saltello col piede buono e pigio col piede che mi fa male saltello con questo e pigio con questo pigio andando su posizioni diverse inizialmente frontale poi frontale di qua poi a ritroso poi di qua poi cambio e lo faccio con l'altro via le braccio come le devo decontrate via guarda le tribune brava vai a ritroso guarda di qua cambia arto guarda le tribune vai avanti vai avanti guarda le tribune vai a ritroso basta così gli esercizi di impulso perdono di forza man mano che si va avanti se lo fate su 10 metri l'impulso deve essere forte e poi si spegne se lo fate su 100 metri non dovete partire con la stessa forza di impulso perché dopo 15 metri siete già a K8 via provate la caviglia la caviglia cambiate cambiate a vostro piacere piacimento è molto più semplice fare il doppio impulso e dopo il mono impulso però visto che il doppio impulso lo fate tutti il mono impulso un po' meno sono andato dal più complesso rispetto al più semplice fai il doppio impulso bene gira attorno al tuo asce da fermo vai 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 più rapida vai indietro vai indietro gira avete capito il meccanismo anche per dare un po' di via provate qualità siamo ancora nel riscaldamento piedi uno di qua e uno di qua della linea è più vicino così adesso avanzi e fai 5 toccate in avanzamento io avanzo vado verso di lei faccio una toccata ritorno qua due toccate e ritorno qua la rapidità l'avete vista? nella vecchiaia la rapidità tre toccate e ritorno quattro toccate ritorno cinque volte e ritorno tre quattro cinque buono torna indietro una una due tre quattro cinque dimmi se hai fatto fatica abbastanza se fai 50 metri così cosa fai? non ce lo fa non lo fa fai 5 toccate ritorni su vai un po' più indivaricata ne fai 7 torni su ritorni indivaricata e ne fai 10 e poi guardiamo quanto si impiega a fare un esercizio fuori dalle ringhe pronti? vai ne fai 5 vai due tre quattro cinque sei sette uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci bene che differenza c'è? a tenere le gambe così con un angolo quasi completamente aperto o così lì qui lavoro di piedi qui lavoro anche un po' di sostegno con le forze sicché l'esercizio fatto così rispetto a questo è diverso qui è piedi qui è forza sta a voi dire cosa facciamo oggi se lavoriamo qui o se lavoriamo qui chi è che prova? dai a fondo sagittale apri un po' di più l'importante è che dietro vi mettete in questa posizione così fermi le braccia anche se non sono sincroni portatele fuori bene adesso sollevate la punta del piede avanti sollevatela fermi sollevate il tallone dietro giù sollevate il tallone avanti tenete fermi sollevate per alto ritornate giù sollevate per alto il ginocchio avanti su no il ginocchio su su allontana il piede dai dai ancora dai su 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 fermi sul tallone dietro il piede dietro scusate via fermi giù giù i due piedi dai quello che abbiamo fatto tra i giorni dai 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 basta torna indietro basta quando c'era scritto esercizi di forza a un certo punto c'erano affondi 60 metri prima con cintura prima carico naturale poi con cintura poi con sovraccarico e voi pensate che uno si inventa la mattina che facciamo 60 metri di affondi sagittali senza alcun tipo di preparazione prima facciamo queste cose poi andiamo a strutturare l'allenamento è come dire facciamo 10 volte in mille di potenza aerobica recupero 30 secondi di skip sul posto e non ho mai corso o sono matto che li propongo è la stessa identica cosa come si fanno gli affondi successivi adesso vieni in avanti e fai degli affondi vai su avanza vai vai prendere terreno avanti vai vai ancora un po' ancora un po' apri un po' vai 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 brava basta così vai su il ginocchio su e poi giù su e giù su giù pacco saltellato radendo sai cos'è? via senza battere scappa via scappa via quando non ce la fai più passaggio sfumato alla corsa via quando non ce la fate più iniziate a correre via cambia cambia ti do l'opio da qui fai l'azione tac poi la volta successiva fai 360 gradi e ricadi ricercando l'equilibrio vai corri vieni avanti allo via hop via rigirati e corri adesso 360 gradi hop brava avete visto i piedi? hop 180 via rigirati 360 hop avete visto? e poi hop hop via hop hop così la corsa a ritroso stretta la corsa a ritroso ampia prima fai il passo saltellato che è questo vai primo hop ritroso hop secondo hop ampia hop sul tallone sul tallone buttalo indietro buttalo indietro basta hop hop dietro aprire aprire adesso io do un'informazione dico prova a portare l'arto inferiore in estensione completa vai sali sali su così solleva il piede l'altro piede lo sollevi e ritorna giù risali e giù sei brava vai risali e giù questo centro qua che è il centro di massa deve stare sempre alto e deve stare perpendicolare al piede se questa azione piega l'arto fai questa azione qui vedi che è dietro arriva sul tallone e non al centro l'esercizio è scorretto sali hop adesso ridiscendi prova con l'altro vediamo subito vai sali giù su giù su giù su brava adesso proviamo a passare da un esercizio all'altro e vediamo se l'esercizio analitico che hai appena fatto a miscelarli tutti e due facendo il vero step up e riesci attraverso la forza a sostenere anche la meccanica passi dal destro al sinistro attraverso un saltello vai chi è che l'ha fatto ancora? brava su vai 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 su in alto su con la testa vieni qui vai su vai continua vai su vai va meglio vai su su non fermarti giù di seguito vai 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 ancora su in alto su in alto basta allora questo è l'esercizio di step up è micidiale fatto bene segue l'esercizio successivo immediatamente si prende una panca si vi sedete a gambe larghe e poi partendo si fanno 5 esercizi esplosivi pum e mi posiziono con tutti i due i piedi sopra ridiscendo hop e lo eserco per 5 volte faccio il passaggio repentino da questo esercizio all'altro proviamo tutti via con un arto solo uno solo uno via uno hop saltare braccia fuori pieghi poco poco dai giù e poi su giù e su se non andare indietro col piede vai in basso hop e poi su bravo giù e poi su bravo bravo bravissima con questo esercizio lavora in isometria sul quadricipite femorale il vasto mediale lavora pochissimo ci sono delle apparecchiature dei cerchi che si utilizzano in ginnastica sia correttiva che formativa che si mettono qua sul ginocchio o una palla medica una palla allora dai stringi basta adesso lavori col vasto mediale senti cosa succede bene non tremano ancora apri così adesso solleva i talloni brava giù solleva le punte giù stringi le ginocchia solleva le punte adesso frizione freno vai 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 dai dai forza e sali fai un esercizio a gambe tese di rapidità questo vai non lo fai hai male si sente vero si sente adesso questo punto l'ombelico lo porti sulla mia mano per dieci volte vai uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci dammi un arco così vai giù col sedere dieci volte giù uno due tre quattro cinque sei sette otto quante volte l'hai fatto questo dieci cambio su una gamba uno due tre con un disco qua divertimento bene finito questo dai su dai su adesso facciamo la circonduzione guardate attenzione vai indietro vieni avanti e su col sedere vai uno torna indietro due torna indietro tre torna indietro cambia sull'altra gamba via su uno due dai su col sedere tre quattro cinque ok la stazione è finita ma adesso se l'esercizio l'ha fatto bene non fa 29 sui 200 fa 40 perché non ce la fa se invece fa l'esercizio la viva il parroco fa 29 ma non serve a niente ok come vanno strutturati i circuiti un tappetino lì un tappetino lì un esercizio 30 secondi fatto bene 200 metri di corsa un esercizio di 30 secondi 200 metri di corsa 6 barra 8 esercizi 4 giri sono 1 2 7 congiunzioni 7 volte 2 14 1400 metri più 1200 2400 metri pausa 3 minuti per 3 volte quanti chilometri sono? la campestre quant'è? e faccio forza faccio qualcosa di diverso adesso vi faccio qualcosa quali esercizi per gli addominali possiamo fare e quali esercizi per il bicipite femorale possiamo fare se ti metti giù mettiti sdraiata vai giù con la piega una gamba dammene un'altra sali col sedere questa è la posizione la posizione di isometrica senti qua? senti? l'importante è non eccedere all'inizio perché dopo ti fai male non vale la pena adesso inizia a molleggiare vai no no stai su porta questo punto sempre più in alto vai vai brava vai 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 ferma adesso da qui il tallone lo porti alla mia mano vai uno dai due dai dai spingi uno due tre quattro in alto su uno due tre quattro basta cosa senti al bicipite femorale? male eh? ah si su bene in piedi allora questi sono gli esercizi da da proporre sono esercizi semplici la corsa come si fa? se quella curva che abbiamo visto dà un numero e dice il numero dice tre al chilometro tre e trenta quanto corro i duecento? dai veloci a tre quanto corro? trentasei a tre e trenta quanto corro? quarantadue quarantadue a tre e venti è quaranta a tre e trenta è quarantadue ogni secondo sono ogni cento metri ogni secondo sono dieci secondi dieci secondi il mille finale quanto lo facciamo? se è tre se il duecento lo facciamo in trentasei il mille lo facciamo in tre o lo facciamo un po' più lento? ma se no non ce la fai più a fare la seconda serie la terza serie quando è che iniziamo a spingere? è l'ultimo mille facciamo l'ultimo mille e l'ultimo mille se invece che tre e dieci facciamo due e cinquantacinque va bene se ho tre se ho tre e venti farò tre e venticinque tre e ventotto e l'ultimo farò tre e quindici ok? ci sono delle domande? la valutazione la facciamo sempre rilevando le dieci falcate le dieci falcate sono undici appoggi non è come l'individuazione della frequenza del velocista che si fa il conto numero dei passi che poi si fa il calcolino ma appoggio il piede e il piede è zero pigio il cronometro a zero zero uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci schiaccio schiaccio allo zero schiaccio al dieci sono dieci falcate undici undici appoggi però sono dieci falcate esce un numero se quel numero se lei corre i cento metri in diciotto e esce un numero a diciotto che è tre al chilometro so che quel numero è la sua frequenza ok? la frequenza di uno che corre a tre normo tipo dovrebbe essere avvicino al 6 un normo tipo un longi tipo un po' più alta 6,20 6,25 un fracchi tipo leggermente più bassa 5,85 5,90 quando appoggia zero schiaccio poi uno due tre arrivo al dieci rischiaccio esce un numerino guardo il tempo che fa a fare i cento metri ma sarebbe meglio fare un quattrocento a ritmo di corsa e dire io corro a quattro al chilometro e a quattro al chilometro ho questo tipo di frequenza lo prendo qui lo prendo in curva lo prendo lì e lo riprendo qui e guardo in condizioni di fatica e di freschezza cosa varia e lì riesci a vedere l'intervento muscolare nel lavoro protratto dici se all'inizio ho 6,10 e qui ho 6,30 vuol dire che uso o 6,40 vuol dire che uso le ampiezze vuol dire che non riesco a mantenere la frequenza e perdo quelle che sono le attività dei piedi perché la frequenza fondamentalmente nasce dall'azione dei piedi altre domande? no come? esercizi per le salite quali sono? esercizi per le salite ah bravo allora le salite le salite si devono preparare cosa facciamo prima delle salite? dobbiamo attivare i muscoli lavorare sulla mobilità della caviglia andare a sbloccare le caviglie e andare a lavorare sull'allungamento dei tendini sono i corpuscoli sono i corpuscoli del golgi cerchiamo dov'è una ragazza vai in sospensione su scendi con questo senza molleggiare stai più indietro col piede vai giù così adesso fa l'azione a gamba protesa e a gamba piegata piega la gamba ridistendi su piega ridistendi adesso sali lentamente sali lentamente su 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 sendi lentamente mi conoscete i corpuscoli del golgi l'hai fatti si a alise adesso sali velocemente su pop e sendi lentamente sali lentamente sendi velocemente sali lentamente sendi velocemente buono questa prima fase lo fai su tutti e due gli arti appoggi il piede qua dentro così vai appoggialo piega la gamba dietro non deve la scarpa sfasciarsi è il piede che lavora appoggia il piede non la punta così ma devi appoggiare ecco brava adesso vai avanti vai senti sulla caviglia senti qui e tirare dietro si lo stiramento che è dato dopo ve lo dico vai lo fai anche dalla parte opposta così circonduzioni appoggi il piede qui sarebbe meglio appoggiarlo alla riviera ma la riviera è appoggia il piede qui e tieniti con le mani a destra e a sinistra appoggia il piede vieni vai vai con le mani qui tieniti adesso torna indietro no no le mani le tieni torna indietro va ferma adesso solleva il tallone vai tira tira piega tira vai sali e tira brava brava e lo fai da una parte e dall'altra poi lo fai messo anche di traverso appoggi il piede qua appoggialo al piede così vai di qua vieni giù vai giù adesso solleva il tallone solleva il tallone solleva la punta afferra la punta e tira la su tira la su brava dai e si fa tutti questi esercizi prima di fare la salita dopo ti metti col piede qui girati no no ti giri girati metti il piede dietro così così le mani qui vai vai avanti qui vieni avanti qui vai vai su vieni avanti su solleva il tallone scendi vai avanti un po' con quel piede solleva la punta vai vai così attiva la caviglia tallone punta vai tutti questi esercizi di attivazione vai perché stop perché la salita è un gesto dicono è un esercizio speciale perché si corre o specifico perché si corre no è un esercizio speciale si avvicina allo specifico in pista se io ho il piede qui so che l'energia potenziale è data dal peso del mio arto dalla forza che applico per l'altezza pum e che si trasforma in energia cinetica se ho il piede alto 30 centimetri e ho un determinato tipo di forza l'energia potenziale è questa l'energia cinetica è quest'altra ma se in salita l'altezza è di 5 centimetri perché ho la pendenza l'energia cinetica è inferiore cos'è che mi serve la salita mi serve che quando sono dietro siccome devo lavorare con le ampiezze e devo vedere la luce è l'ampiezza che determina l'incremento della forza però avendo il piano inclinato il tallone scende e vado in sovrastiramento questo sovrastiramento deve essere addestrato e preparato attraverso l'esercizio 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 l'esercizio